Sono stato portato qui da un'assistente sociale che lavorava presso il CIM che è qui vicino. Per mangiare gli uccellini? E tu lo sai meglio. Qui c'è un po' l'albero. I miei uccellini cascano tanti per raccogliere foglie. Noi prepariamo i campi e poi piantiamo le piantine e tutte le piantine mi hanno conservato come... fare una... diciamo fare una cura per dire. Toccate la terra, sentite come... come ho detto prima. La terra è fresca, morbida, dura, calda... La terra è veramente una ricchezza per tutti, penso. Cioè penso che per tanti problemi, per tante... Pippe... Venite, prendete... mettetevi una zappa in mano e... per la terra... ...